All'autogrill Bay Bar di Arezzo, questi tre ragazzi, che peraltro hanno rilevato l'attività da poco, sono a lavorare. È una situazione difficile, a volte al limite quasi della realtà. Noi ci siamo attrezzati rispettando il decreto, rispettando tutte le norme, per la nostra e la vostra sicurezza. E speriamo che tutto questo passi al più presto. È stato un cambiamento molto grande per me e appena sono entrato qui dentro ci siamo ritrovati con questa situazione abbastanza surreale. Insomma, è abbastanza difficile. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile, sempre nel rispetto delle regole e dei clienti. Le preoccupazioni ci sono, ma con i dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle regole, si va avanti offrendo un servizio a chi oggi non può stare a casa, ma deve andare a lavorare. Io ho attraversato anche tanti momenti difficili, chiaramente. E questo forse è uno dei momenti più difficili. Siamo tutti ragazzi giovani, però ci stiamo unendo, stiamo unendo le nostre forze per permettere a persone che lavorano come noi di rifocillarsi o bere un caffè, mangiare qualcosa, sempre nel rispetto delle regole, chiaramente. Noi speriamo che finisca tutto il prima possibile e che tutti noi riusciamo a stare bene e andare avanti. L'unione fa la forza!